ragazzi allora ritorniamo su questo discorso anche se ultima nel calcio mercato perché ho visto su diversi immagini per quello che ha avuto quello del matrimonio di bastoni perché chissà non erano e quindi io mi scuso con chissà e che devo chiedere il rinnovo perché se no la io me non lo rinnova più ok quindi io mi schifo tutta la vita con la dirigenza ma sono contro alla società perché io voglio capire che chissà aveva chiesto 8 milioni e va bene però rinomiamoli il contratto per federico chissà perché se lo merita quindi ci deve chiedere scusa a noi e l'ultimo e scusa a federico chissà perché non ha fatto niente di sbagliato ok perché lui pensava di andare a a matrimonio di bastoni lo so che è un compagno però non si fa così caro mio bastoni a indolare quel cori contro laiole e sull'atletica leggera anche cioè ma come va a fare questo aiuto come è questa è la mia opinione a riguardo su bastoni ok e quella dell'atletica leggera pure a lui tifosi perché questi non sono normali va bene allora la juve si merita il rispetto sul campo e noi diamo il rispetto alla nostra dirigenza così fa come il presidente ferrero che ci deve mettere i tifosi prima di tutto e poi deve pensare all'aumento di capitale ok da 800 milioni di euro 11 100 milioni va bene e questo che dobbiamo fare e bisogna investire i soldi nel mercato va bene e quindi c'è una cosa importante che faremo quest'anno quindi riapriamo il cacciomercato e quindi diciamo le cose come stanno ok prima cosa seconda cosa per quanto riguarda a noi perché c'è la possibilità di fare un corpo alla zoniolo se meccani arriva anche la taserai o ritorna alla ritorno alla ritorno alla ritorno alla ritorno poi vediamo quale è il futuro di questo meccani sia rimanziano oppure no quindi speriamo che mi viene e questo è il mio punto di vista poi per quanto ci sono le uscite così in dombrano anche c'entrè a con il winter per fratesi che secondo me piace assasuro ma c'è i derby tra milan e inter oppure sono a roma lo stesso perché sono fortemente vicini sulla video fratesi ma noi corriamo e controsorpassiamo perché questo si merita perché fratesi non è da inter mentre milan e sfiorato duram per forza che non dovevate vendere a tonale perché conosci ma l'altro presidente vostro ma c'entrò pura ma sarà e mandina e qua inizia il vostro crono cari milanisti e qua inizia il vostro crono cari milanisti se accettate bene non accettate a un ritorno e qua inizia il vostro crono cari milanisti si accettate bene se non accettate a un ritorno e da un ritorno questo è tutto ok però c'è anche in English New York che vuole dire prestito a Bologna per far crescere il giocatore inglese e di questo mi fermo secondo l'Empoli vuole questi 15 milioni o 20 milioni per Parisi perché l'allumento si è bloccato un affare di Fabiano Parisi però lo ricerca e quindi possiamo dire che Parisi è un nuovo giocatore della Juventus quando è arrivato il giuntore dalla dirigenza va bene questo è il quadro generale di Caciomercato che ho fatto quindi questa è la mia sintesi poi c'è quello di Zaccaria e Artur che secondo me Zaccaria ritorna e Artur no quindi queste quindi questi sono i due scenarii ma i carni io non voglio no che faccio una guerra contro i carni e faccio guerra contro alla società quindi mi raccomando a Caciomercato e non fate gli stessi errori quindi approfittiamo del soli, zanio, noi, fratelli e giuro in Boston Beach ok questo è tutto e poi anche su Cambiasso che ritorna dal prestito del Bologna all'Aumentos quindi speriamo che venga perché in uscita ci sta pure un altro che sono Forse il primo Com Passato Quello Comtuo 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 Amalovic e Chisa, quindi devono rimanere questi due qua, perché sennò me ne facciamo i gol della prossima stagione, quindi mi raccomando ragazzi perché è importante per arrivare a Serenji Milinkovic Samic, se Rabiu rinoma, quindi c'è l'ottimissimo che Rabiu rinomirà sicuro il contrattuale della sua recensione, va bene? Quindi mi raccomando, è semplificato fino alla fine, questo è tutto, e ora passiamo anche sul discorso di allegri, perché voi mi dite che sono allegriano o non allegriano, ma se come ci sono gli anti-alegriani, come questi qua hanno quattro sondi, allora io posso dire che gli allegri rimarranno nella prossima stagione, che siete ridicoli siete. Quando hanno spuntato merna su Chisa e anche hanno spuntato merna sull'aleatore, e questo non va bene, quindi voi siete stati, voi che avete fatto controll'aleatore, e a me non mi è piaciuto, io non ho mai visto una roba del genere, non ho mai visto una roba del genere io, perché sono allegriano, tu con me non devi parlare che sei anti-sportivo, terrori mentino, va bene? tutti quei pesado tifosi di merda, eh? Allora, prima voi dovete soccarmi prima la bocca, prima di pronunciare il nostro nome, voi, perché siete incompetenti in materia, no nino? voi, quindi questo è tutto, perché allegri rimarrà, e ve lo dico, non fatemi arrabbiare, perché sennò ho un poch, ok? E rimbano anche, se mi scrivete insulti, quindi io non voglio la pietà, da voi, tu con me non devi parlare, mai, e mi schierò contro contro i carni, se mi viene, mi schierò contro i carni, si, faccio guerra, quando i carni vieni, faccio la guerra, romano e profonda, perché i carni vieni a qui, che i carni rimabili, i carni e ifcoc Definite, io capisco, ah, che ti nome o sennò un altro tipo a uno come Moisecchina ok o lo facciamo fare a via o tarmei che sono due acquisti già fatti e mamma lupa non sono Anzagnolo, Fratesi e Minko Micho Savic quindi tutto qua speriamo che lo capite una volta per tutte ok quindi questo è tutto e iscriviti al canale cari miei e attimate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti che vi aggiornò su tutto di questo e in più ci sono anche le notizie di mercato quindi fatevi anche un giro su un football h24 dove ci saranno le partite dell'under 21 e inoltre sull'atletica leggera che saranno bene sfide va bene quindi ci sono le statistiche post partita e protoconisti che saranno nuovamente entrati in vivo nel calcio giocato ovviamente che sono dei amichevoli e poi si ripartirà il nuovo il nuovo campionato quindi speriamo di sì like e commenti va bene quindi tutto qua e spero che ci siamo capiti in questa teoria e fino alla fine grazie